Iniziamo dalla Stage & SA, azienda che opera in questo settore in Svizzera e in Germania e che aiuta gli organizzatori di eventi a trovare l'intrattenitore perfetto a seconda del tipo di evento che si vuole organizzare. Come lo fa? Ce lo spiega Marco Alberti, CEO e cofondatore di Stage & SA. Un'ultima cosa tecnica, sentirete suonare questo campanellino quando mancherà un minuto al finale della tua presentazione, questo per permettere a tutti di restare nei tempi e rispettare il programma. Grazie. Grazie mille. Che bello tornare a fare gli eventi live, dal vivo con le persone ed essere su un palco. Non suono oggi, però vi presento la nostra storia, la storia di Stage & SA. Innanzitutto voglio ringraziare la fondazione Möbius per questa possibilità, è bellissimo, e la RSI per questa cornice meravigliosa. Allora, Stage & aiuta gli organizzatori a trovare l'intrattenitore perfetto per gli eventi. Non so se ci avete già provato, ma per esempio, se provate a cercare una jazz band a Zurigo, avrete 19 milioni di risultati e vi invito a trovare l'intrattenitore davvero perfetto per voi. Quindi il processo di ricerca è lungo, non è sempre facile comparare le offerte degli intrattenitori e gli organizzatori spesso non sanno neanche da che parte si inizia. In tutto il mondo, 300 milioni di organizzatori di eventi ogni anno hanno questo problema. E quindi abbiamo deciso di trovare una soluzione e mettere a disposizione di tutti un marketplace che è la nostra piattaforma stage &.com. Come funziona? Arrivate sul sito, dite quello che avete bisogno o quello che state organizzando e il sito, grazie a un algoritmo di AI, in 10 secondi vi dà 10 intrattenitori disponibili per la vostra data nel budget che voi avete fissato e calcoliamo anche un prezzo stimato. Riusciamo proprio a darvi delle offerte praticamente in 10 secondi e questa è la novità che portiamo sul mercato. Chiaramente poi dopo gestiamo anche il pagamento così che le due parti sono tranquille e possono veramente fare un evento tranquilli pieno di energia e di felicità condivisa. Centinaia di migliaia di persone hanno già ballato e sono divertiti agli eventi organizzati tramite la piattaforma. Google ha usato il sistema per trovare e cercare un intrattenitore per uno dei loro eventi. Ci sono stati anche degli eventi piccoli in cima al Pilatus con una violinista che purtroppo è fuori, però c'è, per una proposta di matrimonio. E abbiamo anche organizzato cose più pubbliche aiutando l'organizzatore a negoziare con una band, con una rock star svizzera, i Pegasus, che non è mai sempre facile trattare con le band così, diciamo, grandi perché ci sono tantissimi aspetti da considerare. Il nostro mercato attualmente è al 90% in Svizzera, Svizzera tedesca, 5% in Ticino e 5% in Germania. E tutto nasce dalla passione. Dalla passione di Martino e mia per la musica, per la musica suonata, per i palchi. Io sono quello col capello sciolto, se non mi avete riconosciuto. E chiaramente da due artisti possono arrivare tante idee, ma poi c'è anche bisogno di un po' di pragmatismo. Infatti comunque Lorenzo, che è comunque tra noi, tra il pubblico, fai così, eccolo. Lorenzo Cimasoni è la parte IT, la parte pragmatica del team. Insieme abbiamo creato Stagen e siamo partiti per questa avventura. È un mercato a livello europeo di 34 miliardi annuali. Si parla di 30 milioni di eventi solo in Europa. Quindi è un bel mercato che pochi conoscono ed è super frammentato. E noi quello che stiamo facendo è veramente riuscire a compattarlo. La strategia di crescita, che era cominciata nel 2019, era voluta, oltre a Svizzera, a cominciare a portare la nostra piattaforma in Germania per poi andare in Europa. Però, come ben sapete, è successo quello che è successo. All'inizio 2020 stavamo veramente crescendo, lo vedete, nel picco, crescendo in Germania. Lì ci stavamo cominciando a correre ripari, a ripari nel senso di gestire il successo, che non è neanche mai semplice. E quindi abbiamo cominciato a cercare nuove persone che potevano aiutarci, fino a quando è arrivato il Covid e tutto si è fermato fino a poi a precipitare. Abbiamo fatto mesi praticamente a lavorare per le disdette che arrivavano di tutti gli eventi che erano già stati fissati nei mesi successivi. La Svizzera ci ha aiutato, questo lo sappiamo bene tutti, ha aiutato noi come tante altre aziende a sopravvivere i primi mesi e chiaramente poi anche a investire comunque anche in un momento di difficoltà per comunque ricominciare quando tutto questo sarà finito ancora più forti. Noi ci siamo focalizzati durante il Covid sui bisogni degli intrattenitori perché effettivamente sono quelli che hanno sofferto molto nell'ambito degli eventi voglio dire, perché chiaramente loro vivono di musica, vivono di eventi live. Ci siamo focalizzati su di loro e ci siamo resi conto che resi conto lo sappiamo già, però abbiamo messo il focus su entertainer is a job, perché è un mestiere. E quindi abbiamo creato questa piattaforma, questa dashboard che è il centro di lavoro per ogni intrattenitore. Quindi gestire le richieste d'entrata, in uscita, gestire il cash flow, gestire le offerte, gestire le fatture, tutta la parte anche un po' amministrativa che non è proprio simpatica per la maggior parte degli artisti. Abbiamo fatto un bellissimo progetto con i zia e grazie a Uno Swiss che ha finanziato parte del progetto sull'intelligenza artificiale che appunto ci ha permesso di riuscire a dare dieci preventivi in dieci secondi a qualsiasi organizzatore. È stato veramente un grande progetto e una grande prima mondiale, dovrei dire. Abbiamo fatto molto altro, stiamo pensando anche al pianeta, perché comunque gli eventi spostano molta gente ed è giusto comunque pensare al nostro pianeta. Abbiamo una partnership con Envalue e tutti gli eventi che vengono fatti tramite la piattaforma avranno un'elettricità pulita. Quindi Envalue paga la parte per rendere appunto l'elettricità rinnovabile e questo è stato molto apprezzato dagli artisti che anche loro sono molto sensibili al tema e la cosa bella è che l'artista può anche essere colui che passa la parola, che dà il buon esempio e questa è una cosa che ci piace molto aiutare a fare. Abbiamo organizzato un evento noi stessi durante la pandemia. Abbiamo dato un palco agli intrattenitori che erano fermi da ormai un anno e mezzo e il palco erano le case per anziani, i parchi delle case per anziani e quindi in una giornata 14 città della Svizzera hanno avuto musica grazie a un donatore vicino a Stage End ed è stata una giornata chiaramente straordinaria e uscirà un video fra qualche settimana che farà vedere un po' le highlight della giornata. E come ultimo ci piace sempre pensare oltre, pensare alla ricerca e abbiamo tante collaborazioni con le università in Svizzera e questa in particolare ci sta a cuore perché a parte che è l'ultima in ordine di tempo ma abbiamo fatto una ricerca sulla cultura aziendale. Come si riesce a mantenere la cultura aziendale intatta durante una crescita come quella che sarà, spero, quando tutto finirà, quando il Covid finirà. Passeremo per esempio da 3.000 artisti attuali a 30.000, a 50.000, più cresciamo e quindi tenere la cultura aziendale intatta non è così semplice. Questo progetto è stato fatto da Sara, Elia e Nicola del Bachelor in Leisure Management e ho voluto dirlo perché comunque è un nuovo Bachelor voluto in Ticino proprio per gestire il tempo libero, per professionalizzare, creare e creare e formare delle persone professionali nell'ambito del Leisure Management e questo secondo me è un grande messaggio anche per il nostro cantone. L'ultima cosa che volevo dire è semplicemente da questa ricerca è uscito molto chiaro che Stagein può veramente sensibilizzare gli organizzatori e gli intrattenitori riguardo all'utilizzo consapevole della digitalizzazione in modo da creare sempre più momenti e offerta culturale di qualità. Quindi grazie per la vostra attenzione e se avete domande sono qua. Grazie, grazie Marco Alberti. Ah ecco, dobbiamo dare chiaro il diploma d'onore a tutti i finalisti di tutte le categorie. a consegnare il diploma se si può mettere al centro in favore di fotografo prego Luca il diploma benissimo complimenti complimenti alla Stagein da S.A. è chiaro che io non sono stata scelta con la Stagein se no avrebbero scelto un'intrattenitrice migliore scusate la battuta passiamo grazie a tutti i finalisti ho un'intrattene grazie a tutti i finalisti Grazie a tutti